un'Italia che ha dimostrato una grande maturità Sì, sì, penso si sia visto anche dal punto di vista caratteriale è stata una grande partita da parte nostra perché contro un gruppo di campioni così, comunque spavaldi noi abbiamo usato la nostra spavalderia da giovani e abbiamo tenuto anche dal punto di vista mentale, quindi bravissimi Senti, erano 12 anni che l'Italia non arrivava tra le prime quattro al mondo voi queste statistiche non le guardate, però è una bella sensazione, no? E soprattutto rivoliamo a Katowice 12 mesi dopo Sì, sì, è bello tornare lì, abbiamo dei bei ricordi e sì, secondo me comunque dal percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso abbiamo fatto davvero tanta strada e faresti record, diciamo comunque tornare a giocarsi qualcosa di importante dà ancora più soddisfazione ma ovviamente non ci accontentiamo adesso andiamo a Katowice con ancora più voglia grazie a tutti